E' stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio Giuseppe Napoli, l'uomo di 49 anni che ieri ha sparato contro la ex e il cugino di lei in un residence in via dell'Aerone a Palermo nel quartiere Falso Miele. I poliziotti della squadra mobile hanno trovato per terra otto bossoli di calibro 9. L'uomo, dopo aver sparato, è stato affrontato dai testimoni che lo hanno aggredito e picchiato lasciandolo per terra, privo di sensi e con numerosi traumi. Napoli si trova piantonato all'ospedale civico. Per lui la prognosi è riservata. Per eseguire l'attack è stato accompagnato da alcuni poliziotti. La donna di 49 anni e il cugino di 24 sono ricoverati all'ospedale policlimico di Palermo nel reparto di chirurgia. Tutte e due hanno ferite alle gambe. L'uomo sarebbe arrivato nel residence armato di pistola con il silenziatore sparando alle gambe della donna di 49 anni. Tra i due ci sarebbe stata una relazione in passato. In soccorso della vittima è arrivato un cugino di 24 anni. Anche lui sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi riportando una ferita al femore. La donna e il cugino sono stati sottoposti ad intervento chirurgico. Gli agenti della squadra mobile stanno sentendo i testimoni.